Le Clarisse è una struttura costruita nel 1600 che ha ospitato per due secoli il Convento delle Clarisse, da cui prende il nome, fino a diventare una prestigiosa residenza nobiliare nell'Ottocento. Il primo piano è completamente adibito ai ricevimenti, con una capienza che raggiunge i 200 posti a sedere. Alle pareti si potrà ammirare una notevole collezione di copie ed autore dei grandi maestri della pittura fiamminga, dell'impressionismo e del Novecento europeo. Gli splendidi terrazzi panoramici, invece, offrono una vista mozzafiato sull'Etna e sull'isola di Stromboli. Il Palazzo delle Clarisse si avvale di un personale giovane e altamente qualificato, che sarà a vostra completa disposizione per curare ogni dettaglio e garantirvi un servizio impeccabile. Lo staff vi offre molteplici servizi wedding che vi consentiranno di pianificare e allestire il ricevimento al meglio. La realizzazione della torta nuziale e della confettata, il servizio di open bar e di intrattenimento musicale. Questo e molto altro sarà messo a vostra disposizione per farvi vivere un sogno. Lo chef sarà in grado di personalizzare il menù del vostro banchetto portata dopo portata, in un connubio delizioso di sapori e profumi tipici del luogo. Cominciando dal gran buffet iniziale, ricco e vario, verrete accompagnati in un trionfo di sapori che saprà soddisfare il palato degli ospiti.